Ciao bimbi, questa settimana abbiamo iniziato a parlare della terra e vi voglio raccontare una storia che parla proprio della terra. Si intitola l'orto di Simone. Finalmente è arrivata la primavera. Simone, come ogni anno, vuole seminare le sue carote. Per prima cosa recinta l'orto. Poi prepara la terra e infine semina. Nel giro di poco tempo le sue piantine incominciano a crescere. Simone le annaffia con l'acqua e dopo qualche giorno le può finalmente raccogliere. Guardate quante! tantissime ce n'erano. Ciao Simone, disse Paolo. Paolo guardò l'orto. Ti devo aiutare. Sì sì, ti serve proprio un aiuto. Ma qui manca dell'insalata. Meglio piantare anche dell'insalata. Poi arriva un'altra amica di Simone. Cora. bello il tuo orto. Eh ma qui mancano pomodori. Dobbiamo seminare anche i pomodori. arrivò un altro amico. Isidoro. Bello il tuo orto Simone. Eh ma qui mancano le melanzane. bisogna seminare anche le melanzane. bisogna seminare anche le melanzane. Oh ma buongiorno disse Jacopo. Bello il vostro orto. penso che manca qualcosa. Ah sì. Il mais. disse. Ciao amici. disse Maria. Bello il vostro orto. Ma io penso che mancano le fragole. Ma a un certo punto... Simone. Dov'è Simone? Simone. Non c'era più Simone. Tutti lavoravano ma Simone non c'era. Sicuramente si è arrabbiato. Ah non è colpa mia. Sì è colpa tua. Gli amici incominciarono a litigare. Ehi guardate. Sta arrivando Simone. Ma cos'è in mano? l'orto adesso non è più solo di Simone ma è diventato l'orto di tutti. Avete visto bimbi? Che bella questa storia. E che cosa ci insegna? Ci insegna che non va bene coltivare solo quello che serve a noi nel nostro piccolo orto. Ma dobbiamo aiutare anche gli altri. E' molto meglio un orto con tante persone che ci lavorano che non un orto solo mio. Va bene. Ciao. Ciao.